Buonasera a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono MartiniGerotto ed oggi siamo qui in questo nuovo episodio di Call of Duty Advanced Warfare Ok benissimo Uccisione confermata Bene vieni 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 Hola Bello C'è anche i lati di brutto mi dicono eh Benissimo Arriviamo Uccisione negata Al volo Controllo perso No muori 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 Bene 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 Ragazzi stiamo facendo una performance da manuale Nooo bastardo Credo che nessuno abbia visto quella team là sopra Nooo 50% assist No ci sono dei bastardi No Cosa ha fatto? Cosa ha fatto? Come va chillata? Non lo so Bufali si Bufali si Bufali si Eeeh confermata fanculo Allora Mamma mia Che abbiamo fatto? Un passo di danza Abbiamo fatto un passo di danza Abbiamo fatto un passo di danza E' morendo E' morendo E' morendo Uccisione confermata Dio Mamma mia ragazzi Wow L'oppagine di questa scena L'oppagine di questa scena Epic Sai perchè devi crepare male? Oh Scudarsi Va bene Ah ma qui oggi facciamo i passi di danza Dai abbiamo capito C'è come imparare la danza classica La danza mortuaria La danza mortuaria O avvi nemico online Ok ci sono Poi ora ci sono Per chillare Ma dove? Ma dove cazzo stavano? C'è? Dietro c'è Drone d'assalto nemico in arrivo No perchè non metto a fuoco Ogni volta in botta ragazzi No No Flexore Ma come cacchio faccio? Per dire no Se basta Di colpura No raga è impossibile Senza Lexo non ce la faccio Ok bene Lexo mi hanno riabilitato Per favore Lexo così Nooo Passate Ripostiglio Ma non urlate Dove? L'overload ha detto Ragazzi ha detto veramente L'overload 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 Dentro con questo cazzo di multiplayer Sarebbe bellissimo Bersaglio confermato Ok Ok Uccisione confermata Uccisione confermata UAV alleato in sorvolo No No ragazzi però non è possibile Prima COD era buggato All'epoca Ma se non possiamo acchiappare A quello lì Che stava Lontano A coltellario stesso Ma voi invece no Uccisione confermata Ma muori Stati zitto Che ho il contatto Uccisione confermata E' eliminato Ma sono una donna Per caso no Uccisione confermata E' bene Ma chi sono una donna Uccisione confermata UAV pronto UAV pronto Ah ah Da dietro però non si qua Tu sei bastardo coglione UAB nemico in volo Comenti satanici Uccisione confermata Va bene basta che ho confermato la kill Priorità Vabbè ci hanno distruppato la macchia Non è un problema Problema Nemico in volo Tanto non la vedo io la mappa Benissimo Allora Qua dentro un bastardo Guardate qua dentro Nooo Da prendermi in funzione Un po' con le mani che sono Un tirare vicino No magari dove No ma non è possibile vero raga Dai UAV UAV alleato in sorvolo Decisione legata No 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 raga Uffa non mi chiede la mia incontriazione attività nemica mamma mia oddio mamma mia andiamo da rubare ua b nemico il volo ci cazzo ua b nemico il volo ci cazzo ua e qua eccolo uccisione confermata uccisione ecco cosa vent no niente niente uccisione uccisione confermata spara 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 ancora bravo muori uccisione 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 è un'arma è un'arma di merda la mia è più forte per roma oggi niente ragazzi 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 no stiamo stiamo cominciando a incazzarli aspetta incazzare uccisione si 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 va bene ragazzi per questo episodio è tutto ci vediamo sempre nel prossimo episodio di code di advanced world fear bella bella Grazie a tutti